Eh, ha fatto il save, quindi mi sa che... Eh, buttami giù da questo, riesci a buttarlo giù, sto coso, così salgo. Eh... Vai. Come Cristo funziona? Ecco. Funziona? Funziona? Ciao, Uste. Su, guarda che si cade, sto andando. Vabbè, 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 spostiamolo, spostiamolo di qua, ok? L'hai fatta apposta. Devo sacrificarmi, fra. Se mo' cadi. Oui! il petto come vuole la stacca il telefono quindi ma questo c'entra ok fermo fermo polco vai! ti dico la cosa in faccia! ti dico la cosa in faccia! eh no 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 grazie passo allora fermo che mi tuffo di lato ahahah ha funzionato come cacchio hai fatto? non lo so ha funzionato! eh infatti dai ste che ce la fai come è storto ok ti è arrivato ok devi dondolarti devi far scendere la lanterna saltella un po' è una parola saltella un po' aspetta faccio una cosa non questa buttami giù dammi peso bravo bravo dall'orecchio mi stai tenendo ora ha funzionato ha funzionato davvero non pensavo bisogna fare questo giochino quello si esatto funziona ha funzionato non ci arrivo ho poca spinta va bene eh di dio sei poca spinta vai vai dall'altra parte vai dall'altra parte come manca così non dimmi che sei salmurino ti prego non dimmi che sei no allora ste la provo la provo la provo tipo qua sta trave palesemente dire fammi qualcosa le seghe perché è una trave no capito sega la trave ste no ste no 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 va bene ok pronto vai ma dovevo andare poi c'è spacchino tu lanciami poi vediamo porca di quella ah forse devo abbassarla ce la fai devo venire anch'io ciao poveriii sono fortissimo ma ancora catapulta fa lo sai sai che catapulta catapulta devi centrare allora fammi abbassare faccio buttare tu miri ok ma si volo 1 tentativo 1 Leonardo da Vinci l'ha fatta in tanti tentativi no è un po' in alto sai eh allora no allora non funziona così un pochettino più indietro ok ok beh come le giostre no si si il padre e il figlio che giocano insieme si ma non così allora no per la fefefe fefefe ok vai si e io come entro c'è un'uscita di sicurezza cosa hai fatto? c'è l'uscita di sicurezza ho finito il livello ehi ma dove come hai finito il livello? ce l'hai anche tu si anche a me si 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 dai arriva un checkpoint muoviti come c'è arriva il checkpoint? dritto te davanti a te guarda dove stai guardando te ok va bene grazie devi invertire la vela e l'ho fatto allora è più complicato di quanto pensi ma io facciamo che io vado sull'altra che magari parla sono nell'altro dimmi che non muori non sei morto perfetto allora ma lo sai che credo che sto qua devi star fermo ok no ma che sta andando ma che sta andando sta andando ste funziona no però non mi abbandona qui aspetta no 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 amore mio aspetta no ci sei? si ci sono ci sono ci sono ora si ve l'ho capito dove dobbiamo andare dall'altro lato dall'altro c'è un buco un enorme buco guarda che se sbagli il buco ti prendi ok ti prendi in giro dagli inzio dei tempi se sbagli il buco non vedo niente cosa vuol dire non vedi niente è tutto tutto eeeh dove si fa la retro non c'è no ok dove c'è quella roba strana ehi credo sia dove c'è la no dove stai andando dove dalla barca non ho fatto niente io adesso c'è una barca c'è un enorme barca andiamo dal titanic grazie si sposta pure ma fai dei comandi sta barca no ti prego no no stai non toccarli no stai non toccarli che fai affatti da nick 2 dove li vedi i comandi scusi vado io non so quanto mi conviene dato che guidi tu no infatti ti ho visto da lontano eeeh poi adesso uccidiamo dice 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 ero ero felice della mora di minion usa l'apv ti prego no piiii ok vabbè io andrò scrivetemi un messaggio quando quando volete giocare fai panten fai panten fallo panten mi scudi lo vado via 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 pensavo di prenderlo ce lo facciamo secondo me sai oh no b no b vai vai no b e non c- no 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 vabbè no però che vita di merda questo personaggio è inutile eeeh non attacca che te lo dì io clicco non attacca no frai cosa? piedi io te l'avevo detto che dovevamo andare avanti non me ne ho ancora sinceramente tu più v meccaniche di gioco medio alte scusa ah ecco appunto e vabbè giulio 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 vai non posso guardarti non posso guardarti non ho capito scusa e questa è stata sick giulio guarda lo sfondo del giulio no ma ho quasi fatto la missione post e presto what ho flashato per la torre grazie